Giornata di tensione oggi a Reggio Emilia dove un corteo di centri sociali e migranti ha contestato l'arrivo in città del segretario della Lega Nord Matteo Salvini. Sentiamo Luca Ponzi. Una sola manganellata in risposta a un colpo con l'asta della bandiera ma soprattutto tanta pazienza e mediazione da parte della polizia per evitare di dover ricorrere alle cariche. Il corteo organizzato dai centri sociali e dalle associazioni dei migranti ha ottenuto lo scopo di monopolizzare l'attenzione nell'affollato 25 aprile di Reggio Emilia perché a pochi metri di distanza blindati in un albergo il segretario della Lega Nord Matteo Salvini ribadiva il suo no all'Europa e all'operazione Mare Nostrum bollando così i manifestanti. Alcuni centri sociali invitavano con maniere non troppo educate a starcene a casa quindi è gentaglia. E' gentaglia.